Chiedeva di firmare il modulo e poi si faceva consegnare delle offerte e per convincere i clienti del centro commerciale all'emisfero Silea, la fantomatica operatrice di un'associazione per disabili, parlava della realizzazione di un centro per bimbi poveri. Ovviamente nessun cenno sul luogo dove avrebbe dovuto essere creato. Ad architettare questo raggiro una 25enne rumena senza fissa dimora già conosciuta le forze dell'ordine. Sono stati negozianti ad accorgersi che la giovane importunava i clienti e ad allertare i carabinieri. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i militari dell'arma che hanno accertato immediatamente la truffa messa in atto dalla 25enne. Nessuna associazione né tantomeno nessun centro da realizzare. Il modulo, già firmato da alcuni cittadini che sono caduti nella trappola, è stato sequestrato mentre la ragazza è stata denunciata per accattonaggio molesto e invitata ovviamente ad allontanarsi dal centro commerciale. I soldi raccolti, qualche decina di euro, sono stati sequestrati dai carabinieri. L'invito dei militari è quello di prestare massima attenzione e a non fidarsi a chi chiede soldi sventolando moduli artefatti. Grazie. 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 Grazie.